Iac Liberato Galante Forse l'Avrio dovrebbe fermare perché c'è un giocatore del Napoli a terra, si tocca la testa ma il gioco invece prosegue Va Moriero, entra anche in area il cross di Moriero, Samorano, rete! Uno splendido gol di Ivan Samorano, appena entrato, non ha sbagliato E quando si dice che sono a volte le protezze individuali a decidere le partite Guardate, io vorrei subito rivedere il replay per far vedere ai nostri telespettatori Che grandissima protezza ha fatto Ivan Samorano, appena entrato, se lo merita questo gol Io direi comunque è partito, Massimo, quando dicevamo i cross dal fondo, hai visto? È stato preso in conto, è stato grande Moriero ancora, certamente il migliore dell'Inter in questa partita Guardate però che pericolosità quando i cross vengono dal fondo Certo è stato bravo Zamorano, anticipando l'uomo ma poi colpendo di tacco, attenzione Perché non l'ha anticipato, guardate Splendido, bellissimo Splendido, un gol d'autore Molto bello Tra l'altro scusate problemi per Goretti che avevi segnalato in precedenza Che cadendo ha sbattuto la testa